Iori Silence, film del 2016 con il bravissimo Liam Neeson. Come interpreti abbiamo anche dei nomi qua comunque sono l'Amazon Spider-Man 2 avete presente e l'altro è l'attore che ha fatto The Last Duel, quello con gli orecchioni e faccione. Comunque il cast è ottimo e vabbè il film di Scorsese comunque non vuol dire niente che il film non è che aveva fatto impazzire a parte le immagini molto belle ha preso delle location soprattutto all'inizio del film che dici cavolo che bello che bello che bello il film risulta un po' pesantino non arriva all'otto secondo me 7.3 comunque si può vedere non in una giornata triste magari e basta così la trovate su RaiPlay al momento un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao